Ci avviciniamo a un momento importante per l'ente. Sì, domenica finalmente votiamo il nuovo consiglio direttivo dell'ente carnevalesca così che saremo autorizzati a cominciare formalmente a lavorare per il nuovo carnevale. Quindi vi invito domenica alle ore 9 per l'assemblea dei soci e dalle 10 in poi fino alle 22 per le votazioni del nuovo consiglio dell'ente carnevalesca. Tutto questo si terrà all'ex chiesa di San Leonardo in via Cavoro. Ecco, avete già comunque un palinsesto, state già pensando alla prossima edizione? Sì, ovviamente a livello informale ci siamo già mossi, abbiamo già cominciato a lavorare e quindi siamo in work in progress per il nuovo carnevale. A metà luglio presenteremo la nuova immagine e il tema del carnevale 2020. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Sì, ovviamente a livello di San Leonardo in via Cavoro. Grazie.